Buonasera Rettore, ben trovato, come va? Bene, allora siamo pronti per il nostro consueto appuntamento. Beh, direttore, possiamo dire che insomma stiamo vedendo questi risultati finalmente. I risultati di questa settimana denotano un rallentamento, vedremo lunedì la cabina di regia, probabilmente l'Italia, salvo casi eccezionali, tornerà tutta zona gialla e quindi questa controversia sulle aperture probabilmente pian piano troverà soluzione, perché se si avranno dati in continuo miglioramento e se lunedì la cabina di regia dirà che le cose vanno in modo di gran lunga migliore, senza illudersi e stando sempre attenti, si può pensare a qualche riapertura di maggiore portata. Ne parliamo poi più avanti. Rettore, a lei. Facciamo un po' di ordine, cominciando dal fondo della sua introduzione. Sono contento che lei ci metta in competizione con la Germania, ma noi non siamo in grado di competere con la Germania ancora, quindi non ci illudiamo, la crescita del nostro PIL è migliore di quella della Germania, ma è un dato così isolato che vuol dire poco, partiamo da una situazione differente e da tutt'altro discorso. Poi risalendo e commentando ciò che riguarda l'Italia, abbiamo un più 4,2 e un più 4,4 nel 2021 e nel 2022. Sono dati assolutamente in linea con tutti quelli che abbiamo sentito nell'ultimo mese, mese e mezzo, dagli organismi nazionali e internazionali più autorevoli e dalle agenzie di rating. Quindi c'è poco di nuovo. Addirittura sono inferiori come entità a quelli previsti dal governo più 4,5 e più 4,8. Questo cosa vuol dire? Che il governo è stato troppo ottimista? Ma credo di no. Guardi, voglio essere ottimista. Io credo che campagna di vaccinazione che ormai sta andando avanti, riapertura graduale, consentirà all'Italia di fare un terzo e quarto trimestre importante. E potremmo anche andare oltre questa crescita che viene evidenziata dalle previsioni primaverili della Commissione europea. Diciamo anche qualcosa però che non ci piace molto. Per quanto riguarda il recupero delle posizioni ante crisi, l'Italia è all'ultimo posto in Europa. Anche se, come abbiamo visto, la media della crescita del PIL europea corrisponde per il 2021-2022 più o meno a quella italiana. Siamo fanalino di coda in questo, ma d'altronde paghiamo lo scotto di tutta una serie di cose, come per il 2021 tocchiamo il 160% del rapporto debito-PIL e oltre l'11% per quanto riguarda il rapporto deficit-PIL. A questo proposito, Aurora, lei ha sentito in settimana che Draghi si è espresso in modo molto chiaro, dicendo che i famosi parametri, quelli che stiamo citando, dovranno essere rivisti. Quindi fare il paragone col famoso 3% deficit-PIL, fare il paragone col 60% debito pubblico-PIL non è più il caso. E questo un po' ci tranquillizza, anche se l'elevatezza del debito rimane un connotato purtroppo fondamentale della nostra economia. Quindi qualche passo in avanti, ottimismo per il futuro, anche per quanto riguarda l'Europa nel suo complesso. Non sono però così ottimistiche i dati diffusi dall'Istat sulla produzione industriale, sebbene in calo però nel confronto con lo scorso anno segnano un balzo e un moderato recupero sul trimestre. Ettore, che fotografia fanno? È una fotografia composita. Perché? Qualcuno ha esaltato il più 33,7% rispetto a un anno fa, cioè a marzo 2020. Ma è un'esaltazione un po' eccessiva, non c'è troppo da gioire. Perché vorrei ricordare che a marzo 2020 noi siamo entrati in lockdown e quindi le attività si sono completamente interrotte ed è poco significativo il fatto che si guadagni il 33,7%, mentre il dato che lei ha richiamato, e cioè la decrescita sia pur lieve, meno 0,1% rispetto al mese precedente, è un dato inferiore alle aspettative. Si pensava a un più 0,3 più 0,4%. Soddisfacente nel complesso il dato relativo al confronto col trimestre precedente, più 0,9%. Quindi un giudizio contrastato, dove però prevalgono aspetti di attesa. Cioè noi ci aspettiamo che la produzione industriale possa riprendere vigore, ma ancora non è avvenuto perché non c'erano le condizioni e quel più 33,7% non ci deve assolutamente illudere perché è un riferimento di significatività molto limitata. Ecco, c'è anche da aggiungere che il Vice Presidente della Commissione ha detto che i primi pagamenti arriveranno a luglio. Sì, tutte cose che sapevamo e che spediamo. Noi siamo stati puntuali, entro il 30 aprile lo abbiamo presentato. A questo punto è al vaglio della Commissione. Io sono sempre stato ottimista per quanto riguarda le risorse europee perché essendo nato da Draghi questo progetto, anche se già ho detto in altre occasioni che la seconda versione del progetto del precedente governo è stata utilizzata nella costruzione di questo recovery plan in cui forse c'è da segnalare una presenza più significativa degli aspetti relativi alle riforme, che riforme e investimenti devono andare di pari passo affinché l'Italia possa recuperare competitività. Quindi io rimango ottimista e anche Dabrowski ha detto che siamo soddisfatti in questa prima fase dei piani che sono stati presentati. Abbiamo rispettato i tempi e secondo me era fondamentale e forse questa venticinquina di miliardi che ci fanno molto comodo riusciremo a prenderli a luglio, perché no? Io credo che grandissimi problemi in sede europea non li avremo e Draghi ha puntato molto. C'è da segnalare però che Mattarella proprio in questa settimana ha un po' richiamato l'attenzione su questi temi dicendo che ci vuole coesione, che bisogna andare più veloci per quanto riguarda poi i piani effettivi e la relativa attuazione e quindi ha un po' detto con chiarezza muoviamoci, dobbiamo essere più tempestivi e questo è un discorso generale che riguarda un po' tutto il nostro iter in Italia e anche quello del governo attuale che sta cercando di contemperare una serie di esigenze ma che in alcuni casi dovrebbe procedere più spedito. Altrimenti questo richiamo forte di Mattarella non ha delle grandi spiegazioni va visto secondo me in questa ottica sbrighiamoci, facciamo dei cronoprogrammi efficienti, riforme, investimenti tra l'altro a maggio Draghi ha promesso di intervenire notevolmente sul piano delle semplificazioni e l'eccessiva burocratilizzazione e noi sappiamo quanto abbia danneggiato l'Italia negli ultimi decenni quindi lo aspettiamo questo provvedimento sulle semplificazioni perché sarà veramente importante. Ecco Rettore, come commentiamo queste parole della Bonetti? Ma io più che le parole della Bonetti direi qualcosa sul sostegno di bis e poi magari un piccolo commento per esempio l'aggettivo straordinario alla campagna di vaccinazione forse mi sembra un pochettino esagerato stiamo portando avanti la campagna di vaccinazione tra tante difficoltà adesso stiamo andando a ritmi più accettabili ma non mi sembra che ci stiamo comportando in modo straordinario sotto questo profilo Passiamo al sostegno di bis. Noi abbiamo avuto tantissimi provvedimenti, otto, a partire dal Cura Italia il sostegno dovrà essere convertito in legge la prossima settimana poi il sostegno di bis doveva essere emanato entro fine aprile siamo arrivati a metà maggio e ancora non conosciamo il testo ne conosciamo i contenuti certamente i contributi di fondo perduto dalle imprese per circa 14 miliardi poi ce ne saranno altri 5-6 che in qualche modo agevoleranno l'attività delle imprese e poi tantissimi interventi si fa fatica anche a ricordarli mi viene in mente le agevolazioni sui mutui perché questo è importante per i giovani per coloro che hanno meno di 36 anni e vogliono acquistarsi una casa questo è un passo importante notizia delle ultime ore i contratti di rioccupazione perché col blocco di licenziamenti il 30 giugno ci sarà il problema di gente che rimarrà senza lavoro con lo sblocco di licenziamenti e i lavoratori in cassa integrazione quindi questi contratti di rioccupazione saranno importanti garantiranno un lavoro a tempo determinato che inizierà con un periodo di formazione di prova queste sono notizie che leggiamo ovviamente non abbiamo un testo scritto è cosa delle ultime ore però sul lavoro importante e tutta un'altra serie di interventi di cui abbiamo parlato in altre occasioni però il provvedimento è tardivo è inutile girarci intorno doveva uscire un po' prima fuori perché ancora non ne conosciamo i dettagli fatichiamo a capire come il governo effettivamente possa aiutare in modo significativo le varie categorie ma secondo lei perché questo ritardo? da cosa dipende? non si riesce a trovare la quadra sugli interventi? il discorso è sempre quello delle coperture quindi non bisogna andare al di là di una certa cifra e poi sicuramente c'è stata una costruzione molto laboriosa si sono sempre aggiunte delle cose questi contratti di rioccupazione è una cosa che è uscita fuori ieri quindi proprio nelle ultimissime ore si continua ad aggiungere qualcosa e c'erano dei punti di divergenza c'è la famosa questione del super bonus che uscita dal sostegno probabilmente non sarà riallocata subito nel sostegno IBIS se ne parlerà la legge di bilancio ma non può rimanere in sospeso quindi forse ciò ha determinato però ai cittadini interessa poi vedere che le cose si facciano e quindi noi ancora una volta vediamo che c'è un ritardo e poi i mezzi a disposizione i cosiddetti sostegni non saranno sufficienti soprattutto per alcune categorie le faccio un esempio che mi viene in mente al di là degli alberghi dei ristoranti dei bar delle palestre delle piscine e via dicendo tutto il settore dei matrimoni quello che gli anglo-americani chiamano wedding è un settore che vale secondo alcune estime circa 35 miliardi è completamente fermo ne ha parlato anche Draghi in settimana e si collega in qualche modo non totalmente però mi viene in mente anche l'altro grosso problema italiano che è quello della scarsa natalità siamo tra i paesi in situazione peggiore nascono poche persone pochissime e certamente questo è un problema e ci sono stati proprio oggi i cosiddetti stati generali della natalità in cui sono intervenuti il Papa e Draghi e hanno parlato dicendo una serie di cose è evidente che la natalità è piuttosto bassa deve aumentare bisogna dare però alle persone la possibilità di sostenere il peso di una famiglia ci sarà l'assegno unico da lui che migliorerà un po' la situazione ma poco quindi interventi per i giovani che possano favorire il discorso della della natalità perché l'Italia non può andare avanti con con questi ritmi indubbiamente è un problema serio che stanno affrontando e oggi addirittura è sceso in campo il Papa che già ha parlato di queste cose per sensibilizzare l'opinione pubblica soprattutto il governo che poi mi è sembrato già ampiamente sensibile al tema soltanto che bisogna poi procedere con i fatti a rendere possibile una serie di cose Adesso come di consueto passiamo all'analisi di borse e mercati segnalando tra l'altro che negli Stati Uniti questa settimana c'è stato un allarme sull'inflazione che adesso però se non sbaglio il rettore in parte è rientrato vero? Guardi sì nel senso che addirittura si era parlato di un livello di inflazione del 4,3% però poi si è detto che in realtà non era così forte l'impatto inflattivo ma forse intorno al 3,4% poi è intervenuta la Fed dicendo che comunque sta sempre lì che non ha intenzione di rialzare i tassi e quindi quei movimenti pericolosi a ribasso che i mercati finanziari avevano avuto in questa settimana con dei cali forti anche a Wall Street dove peraltro però i distini hanno raggiunto e battuto spesso i massimi storici e ci sono state delle giornate preoccupanti però chiudiamo la settimana con tutti i segni verdi col Fuzzimib che guadagna l'1,14% in Europa tutti i segni verdi e il Nasdaq e il Dow Jones in questo momento come vediamo dalle immagini sono in territorio positivo quindi è un po' passata la paura è durata pochissimo i mercati finanziari ci hanno abituato in questa fase storica a un comportamento veramente straordinario questo è l'aggettivo che calza in riferimento ai mercati finanziari perché durante la pandemia in altre fasi storiche probabilmente i mercati finanziari sarebbero colati a picco invece hanno puntato sul fatto che la pandemia comunque non era una crisi come quella del 2008 era destinata in qualche modo piano piano a sfumare piano piano a essere riassorbita è quello che sta avvenendo piano piano con la campagna di vaccinazione la stiamo combattendo non dico la sconfiggeremo totalmente ma insomma siamo un pezzo avanti e quindi i mercati finanziari assistono alle varie fasi e hanno sempre reagito bene il nostro mercato finanziario il Fussimib alla data di un anno fa era notevolmente inferiore come livello ha guadagnato più del 43% da un anno beato chi ha investito allora e che non ha nemmeno venduto i titoli e oggi può goderne i benefici quindi mercati finanziari comunque sempre all'altezza della situazione andiamo allo spread a 115 oggi in leggera decrescita rispetto a quando abbiamo iniziato in leggera discesa sì diciamo che 115 ci consente oggi di chiudere la settimana senza oltrepassare 120 punti che in qualche fase molto breve di qualche giornata sono stati toccati nel corso delle ultime due settimane e ieri e stamattina stava a 118 allo spread quindi direi una chiusura positiva visto che il venerdì spesso si accentuano le negatività quando ci sono oggi invece chiudiamo con mercati e spread che hanno migliorato nel corso della seduta la loro posizione bene chiudiamo bene bene rettore io la ringrazio come sempre per la sua analisi sempre precisa e puntuale appuntamento con lei alla prossima settimana ma ricordo poi naturalmente l'appuntamento del lunedì sera dove naturalmente il rettore è presente nella trasmissione l'imprenditore e gli altri alle 21 intanto una buona serata e un buon weekend bene un saluto a tutti alle spettatrici e alle spettatori a lei Aurora e a tutta la nostra radio tv a lei a lei a lei a lei a даль a lei a lei a lei Grazie a tutti.